Allora ragazzi, ancora un video in prima pagina questo favoloso metodo che anche quando la condizione non è perfetta fa vincere e anche stasera io chiamo Terno, Terno a tutte, adesso vi faccio vedere anche gli scontrini, per chi mi segue, per chi mi chiama, per chi mi manda un messaggio, per chi mi chiede consigli, perché sapete che noi oltre che vendiamo il metodo noi diamo anche l'assistenza, rispondiamo sempre a tutti, ma stasera questo capolavoro ancora una volta ha fatto veramente il suo dovere, c'era una previsione che era fortissima, era 72 81 86, chi mi ha chiamato, chi mi ha mandato il messaggio ho detto guardate visto che non è come dice il metodo, la condizione perfetta, mettete anche la figura, e stasera guardate cosa è successo, ho già caricato un po' di scontrini, se me la fa aprire, allora, eccola qua, eccole qua, già caricate, lo caricate su Facebook, potete andare a vedere, ed eccolo qua, 9 72 81 86, su Firenze, la previsione si giocava su Cagliari e Genova, ed è uscito su Firenze, allora, eccolo qua, lui ha giocato in questo caso come diceva il metodo, ha preso Lambo, ha preso Lambo, questa è la previsione giusta del metodo, questa è quella che vi ho fatto vedere prima, il computer che mi fa un po' i capricci, vediamo, eccolo qua, 72 86, Cagliari e Genova, peccato non l'ha messo su tutte, è uscito su Firenze, questa ho sbagliato, ho caricato la vincita, ma non è una vincita, 34 e 70, un'altra previsione che avevo dato in privato, e poi l'abbonamento Tris ha dato subito lambetto su Milano, 23 e 52, ha dato lambetto, adesso ragazzi, ovviamente, dopo questo terno su tutte, aspettate perché mi mandano le foto su Facebook e mi impallano tutto, ovviamente ragazzi, adesso, c'è la condizione perfetta, ok? c'è la condizione perfetta, finalmente, finalmente abbiamo la condizione perfetta, perciò, chi ha il metodo, adesso deve abbandonare tutto, quello che, che sta giocando, e va a giocarsi soltanto questo metodo, ok? va, sto cercando di far ripartire il computer, eccolo qua, forse mi è ripartito, allora, vediamo un attimo, volevo farvi vedere, volevo farvi vedere la mia pagina, se me la fa, sto tripulando tanto oggi col computer, eccola qua, forse ci siamo riusciti, chiudiamo qua, tanto mi arrivano le foto, questo è il gruppo ragazzi, iscrivetevi, iscrivetevi, che io qua vi do tanti bei consigli, vi regalo dei bei, adesso ci sono due ambi fortissimi, che ho postato, e mi raccomando, sul torino nazionale, iscrivetevi, adesso stavo dicendo, chi ha questo metodo, abbandoni tutto, tutto, guardi bene l'estrazione di questa sera, e inizia a giocare soltanto la condizione che dice il metodo, ok, perché adesso è importante che noi andiamo a prendere una bella vincita su ruota, e questo metodo avete visto cosa è capace di fare, stasera sembra una cavolata, ma un terno così, un terno così, sono quasi 130 euro, no, quello da 1 euro e 50, scusate, eccolo qua, questo qua, 1 euro e 50 di terno su tutte, quattro numeri, sono 155 euro, perciò, avete visto che, eccolo qua, questa è una vincita di 155 euro, comprando un metodo e giocando una previsione, non giocando 50, ovviamente il terno su tutte, l'acquaterna su tutte, io la consiglio sempre di giocarla, perché ragazzi, l'acquaterna un terno su tutte, e soldini, mettendoci 1 euro, 1 euro e 50, l'ambo non lo giocate, giocate il terno, ma almeno il terno giocatelo, adesso attenzione ragazzi, io non la faccio vedere, non la dico, perché sennò, i soliti avvoltoi, mi prendono il metodo, c'è la condizione, c'è la condizione perfetta, nell'estrazione di questa sera, che dice il metodo, ragazzi, chi ha il metodo, abbandonate tutti, e giocate solo, quello che vi dice questa qua, perché noi, nel giro di 3-4 colpi, noi andremo a incassare, su ruota, chi non ce l'ha, questo è il numero, prima di comprarlo, andate sulla mia pagina Facebook, vedete tutte le vincite, che fa questo metodo, poi se siete interessati, mi mandate un messaggio, non mi chiamate per favore, perché non riesco a rispondere, mi mandate un messaggio, su WhatsApp, e io praticamente vi do, vi spiego come prendere questo metodo, questo metodo fantastico, questo è quello, che fa giocare questo metodo, e come ho scritto, fatti e non chiacchiere, perché i fatti, questa è la mia pagina Facebook, ragazzi, la gente mi manda gli scontrini, e io ripubblico, perciò, perciò ragazzi, messaggio su WhatsApp, e vi dico tutto quanto, non perdete questo metodo, chi ce l'ha, ragazzi, sa già cosa deve giocare, io vi auguro una buona serata, e un bacio a tutti. perciò ragazzi, Grazie.